Poteva essere la classica buccia di banana su cui scivolare, invece il notaresco torna da Agnone con tre gola d'attivo e soprattutto tre punti. Qualche difficoltà per sbloccare il match, poi tutto più facile dopo il gol di Frulla appena prima dell'intervallo. La squadra di Epifani riprende a marciare e, complice del pari del campo basso a Castelfidardo, fa ora parte del drappello di squadra in vetta a sette punti. In attesa del duro test di domenica con le fiuggi, l'inizio di stagione sta regalando soddisfazioni al notaresco. Il DS Paolo D'Ercole ha spiegato all'Abruzzo del Pallone come è nata la squadra di questa stagione. Con l'arrivo di un nuovo allenatore si è cercato di seguire le sue direttive, le abbiamo sposate a pieno. Questo bisogna dare merito alla società che sta facendo e ha fatto dei sacrifici importanti, come tutte quelle società che sono ripartite dopo un periodo un po' troppo strano che sta purtroppo continuando. A livello tecnico abbiamo mantenuto un'ossatura di giovani, anche perché il settore giovanile notaresco negli ultimi anni ha lavorato molto bene, quindi ha facilitato anche il mio di lavoro. Abbiamo cercato di inserire dei ragazzi, qualcuno sconosciuto a questo girone come Colombatti, Lattarulo, qualche altro. Altre sono conoscenze mie, tra virgolette, ma sono conoscenze di giocatori importanti come Dosandos, Banegas, Marchionni, Mancini e qualche altro. Poi per quelli che non sono rimasti c'è anche il fatto che l'anno scorso Sansovini ha iniziato ad allenare, Salvatore ha fatto una scelta e quindi io gli faccio un grosso in bocca al lupo, ma sono delle scelte, nel calcio si fanno delle scelte e poi tra le persone il rispetto rimane sempre. Però alla fine diciamo che l'ossatura, bene o male, è rimasta qualcosa, è cambiato per forza di cose. Una cosa è certa, sarà un campionato duro ed equilibrato e D'Ercole aggiunge. Ci sono tanti risultati strani perché ancora le squadre hanno iniziato chi più in ritardo, chi sta ancora completando la rosa, quindi sarà un bel campionato, probabilmente non ci saranno grandi ammazze campionato, però sarà avvincente, come sempre.